Che cosa sono? Questi sono i miei stuzzichini per il party del pigiama di stasera! Sono i preferiti della mia sorellona preferita! Ma non erano meglio i pop-corn? Ah, può andare! No, non vedo l'ora che Stella Nera faccia il ritorno qui! Sì, rafforzeremo il nostro legame sorellesco facendo i discorsi tra le donne, spazzolandoci i capelli e soprattutto giocando a tortura o verità! Obbligo o verità! Non lo chiamiamo in questo modo, Suttamaran? Stella Nera ha detto che sarebbe venuta! Non ha risposto alle chiamate e neanche alle mail, però io sono il più che sicura che si presenterà! Già, peccato che alla fine ti deluda ogni volta! Sono il più che sicura! Ok... Ho invitato un po' di amiche nel caso non venisse più! Oh, è senz'altro il Lenny! Che gioia! Stella Nera! No, non è la Stella Nera! Ma io sento che sta per arrivare! Venite! Fermatevi subito, malvagie criminali! Buonasera a voi, signorine! A cosa dobbiamo il piacere, sorelle? Accuccia! Non corteggiate il nemico! È chiaro che hanno unito le forze per sconfiggerci una volta per tutte! Beh, Terra può sconfiggermi quando vuole! Se questo fosse un attacco, perché avremmo suonato il campanello? E portato i sacchiappelo? E persino lo stereo? Non mi interessa decifrare i vostri insidiosi giochi mentali! Non è un gioco mentale, le ho invitati io! Facciamo un pigiama party! Sarà una serata casalinga a tre ragazze! Scordatevi il pigiama party! Non avete compilato il modulo! Richiesta per un pigiama party da Teen Titans! Lo compilo subito! Oh, la sorella è arrivata! Sei qui! Pigiama party! Non è la sorellona! Oh, ma ho la certezza che verrà! Questa chi è? Lei è Bumblebee, è una tosta! Non mi sembra tosta! Lo sono e come! La gente tosta non dice di esserlo! Allora non lo sono! Lo sapevo! Coraggio ragazze, che il nostro pigiama party abbia inizio! Sarà una serata midica! Serata casalinga tra ragazze! Viva i pigiama party! Su, da dove iniziamo? Raccontiamoci delle storie di terrore! No! Niente ragazzi!